Torna a crescere l'export del made in Liguria, trainato soprattutto dalle performance del capoluogo. Dopo la brusca frenata di fine 2016, nel primo semestre dell'anno, i settori ad alta concentrazione di microimprese e il totale manufatturiero Ligure registrano una decisa impennata. Secondo gli ultimi dati Istat diffusi dall'Ufficio Studi Confartigianato, le esportazioni del manufatturiero Ligure nel complesso aumentano del 20,2%, mentre nei settori ad alta concentrazione di imprese, in cui l'export vale ben 509,3 milioni di euro, l'aumento è del 9,6%, il settimo migliore in Italia. Dopo un 2016 decisamente poco brillante, guardiamo con ottimismo la ripresa delle esportazioni in questo primo semestre, commenta Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria, anche se constatiamo una situazione di alti e bassi su vari territori provinciali, un motivo in più per proseguire il percorso di rilancio e promozione del nostro Made in Liguria sui mercati esteri, facendo sistema per valorizzare le nostre eccellenze con azioni a misura di microimpresa. Il capoluogo Ligure registra 340 milioni di euro di esportazioni nei settori ad alta concentrazione di micro e piccole imprese, con un aumento del 34,4% nei primi sei mesi dell'anno. Nel complesso è in crescita anche la curva dell'export nell'imperiese, che aumenta dell'1,8% per i settori di alta concentrazione di micro imprese, mentre retrocede del 2,2% nel manufatturiero totale.